ciao mi chiamo marcello secco faccio questi video perché sono appassionato di moto quindi parlo di moto ogni giorno oggi anzi ieri mi ha scritto l'amico giuseppe che mi chiede di parlare della onda ncx del 2018 volentieri e colgo la sua richiesta lo ringrazio per il commento che mi ha scritto quindi parliamo di una moto che ha avuto un notevole successo di pubblico anzitutto per diversi motivi anzitutto dicevo per il motore bicilindrico che ha la caratteristica però di avere la corsa lunga quindi è un motore che si dimostra con i fatti parco nei consumi ma allo stesso tempo di generose prestazioni poi altra caratteristica importante della moto che intanto vediamo qui nell'immagine questa bella immagine vedete ha la posizione di guida rialzata che offre quindi un grande controllo e naturalmente comfort nella guida inoltre le sospensioni a lunga escursione vedremo dopo l'escursione assorbono le ospedità dell'asfalto e non da ultimo insomma lo stile è bello una moto che che ha un certo sicuramente un certo stile un certo carattere che trasmette con le sue linee e quindi un look accattivante come ciliagina sulla torta anche il fatto che il vano porta casco quindi anteriore di fatto al posto del serbatoio della benzina permette appunto di collocare agevolmente il casco senza avere ad esempio il bauletto posteriore che comunque si può sempre integrare per far sì che la moto diventi una moto anche per lunghi viaggi quindi una moto comoda con parca nei consumi ma anche generosa nelle prestazioni vediamo quindi il motore che un bicilindrico parallelo i cilindri sono piuttosto inclinati in avanti appunto per abbassare il baricentro della moto che ha una potenza quindi di 55 cavalli a soli 6.250 giri al minuto e una coppia massima di 68 newton metro 4.750 giri al minuto quindi consumi si attestano sui 28,6 chilometri con un litro nel ciclo medio per quanto riguarda il telaio una struttura in tubi d'acciaio con schema diamante la sella alta 830 mm da terra quindi un'altezza che direi nella norma la forcella telescopica della show a stelle da 41 mm ed è denominata sd bv l'escursione è di 153,5 mm abbiamo poi il mono ammortizzatore posteriore che il classico pro link in questo caso l'escursione della ruota è di 150 mm all'anteriore il freno usate eccolo qui vediamo lo mostrarvi nell'immagine eccolo qui il freno singolo ha appunto un diametro di 320 mm quindi di generose dimensioni mentre il freno posteriore è formato da un disco di 240 mm i cerchi anteriore e posteriore sono in lega di alluminio e appunto sono da 17 pollici per chiudere il peso in ordine di marcia di 220 kg e il prezzo all'epoca quindi nel 2018 era di 7.990 euro quindi praticamente 8.000 euro per questa bella moto molto interessante soprattutto per un turismo anche a largo raggio bene se ti è piaciuto metti un like se non ti è piaciuto un dislike iscriviti al canale e attiva la campanella perché ho pubblico appunto un video al giorno così sarai sempre aggiornata aggiornato ed è gratis qui sotto i tuoi commenti sempre molto graditi ciao buona serata